Per l'ultimo atto della stagione dell'eccellenza toscana 2021 Girone A allo stadio Masini di Santa Croce sull'anno si affrontano nella finale playoff il Fratres Perignano e il Cascina che hanno concluso rispettivamente al primo e al secondo posto la regular season. La formazione di Mr. Ticciati scende in campo dal primo minuto con Martinelli, Lucarelli, Pennini, Gamba, Genovali, Aliotta, Filippi, Fiaschi, Andolfi, Luca Remedi e Sciapi. Mr. Polzella risponde con il suo Cascina schierando Brunelli, Borgia, Puleo, Balleri, Fatticcioni, Cela, Scaramelli, Olivotto, Chiaramonti, Pini e Rigirozzo. Niente fase di studio, lui con i rendi partono subito forte, dopo un po' più di un minuto lancio in possibilità per Andolfi che vince il duello con Cela, Sciapi raccoglie la sfera, va al tiro, Brunelli dice no alla sua conclusione. La risposta del Cascina è immediata, Scaramelli manda in parallela per Rigirozzo che entra in aria, si accentra e calcia in porta e il suo tentativo è deviato da Aliotta. Pochi secondi dopo, Chiaramonti apre a sinistra per Olivotto che si sistema la palla sul destro, prende la mira, prova da 25 metri, Martinelli allontana e intuffa il pericolo. Al decimo minuto, Sciapi punta Fatticcioni dalla sinistra, serie di finte e movimenti dell'attaccante d'ossobuco e con una sterzata super difensore e pian di chiedere a terra, l'arbitro indica subito il dischetto per l'intervento d'attergo di Fatticcioni. Dal dischetto va Sciapi, classica rincorsa del numero 11 che incrocia il destro, la sua trasformazione viene respinta dal palo. Il Cascina si fa vedere in avanti sul calcio da fermo, Olivotto mette la sfera sul secondo palo per Scaramelli e la sua incornata finisce di poco a lato. Il Fratres prova a colpire in velocità, Fiaschia allunga per Randolfi che con un sombrero supera Olivotto, guadagna metri prima di liberare un destro potente ma poco preciso. Intorno alla mezz'ora, Borgia da metà campo lancia in priorità per Rigirozzo, sottaccando il Cascina arriva in uscita Martinelli, il contatto tra i due vicino all'infondo viene di tutto falloso ed è calcio di rigore per i nerazzurri. Dal dischetto si presenta Chiaramonti, Martinelli indovina la traiettoria ma niente può ed è 1-0 per il Cascina. In avvio di ripresa il Fratres cambia immediatamente passo, Gamba vede e serve Sciapi che cerca lo spazio per il destro, ma tutta la Fatticcioni, il capo canone nel torneo ci riprova nuovamente ma è sempre Fatticcioni a fare la barriera, la palla arriva poi sui piedi campisi, il calcio di prima intenzione mancando lo specchio della porta. Il Cascina si fa a vite in avanti con Chiaramonti che lascia a Rigirozzo a limite dell'area il triangolo, si chiude con Scaramelli il suo regolare mancino, si trasforma in semplice rimessa dal fondo. Al sessantesimo Corne da destra per il Fratres, la battuta va Gamba sulla palla pennellata, alla perfezione stacca fra l'altro di tutti Sciapi che inzacca le spalle Brunelle e riporta il punteggio in parità. Sull'1-1 il Fratres si fa ancora più arrembante, Sciapi difende il possesso contro tre difensori, aspetta il movimento dei compagni, scarica indietro per Gamba che cerca il colpo alla distanza, la conclusione sporcata finisce docile tra i bracci di Brunelli. Campisi recupera palla a centrocampo, fa partire un 2 contro 2 prima di servire Andolfi che dopo aver fatto qualche metro si sbilancia e colpisce mai la sfera che si perde oltre la linea di fondo. Siamo al minuto 74 quando Luca Remedi vede sui spazi il taglio di Sciapi che punta dentro verso la difesa e in trenare con un colpo da biliardo mette la sfera dove Brunelli non può arrivare per il 2-1 Fratres. Il Cascina non ci sta, Fatticcioni va per via e centrali con Gargini che alza la testa e mette al centro un bel cross tagliato per l'incordata di Chiaramonti che fa la barba al palo a sinistra di Martinelli. Gli uomini ticciate non la chance per chiudere la partita, Gamba in qualche modo serve indietro per Campisi che si allunga troppo la sfera permettendo a Brunelli di uscire e neutralizzare l'azione. Poco più tardi Sciapi fa da torre per Gamba che controlla, entra in area e calcia la sfera, Brunelli respinge, il disimpegno di difesa non è perfetto per dare a calcia al volo senza trovare la porta. Al 96esimo punizione per il Cascina, la palla arriva dalle parti di Cela che chiama all'intervento in tuffo Martinelli, più l'estero arrivato all'olivotto, Chiantapin fa 2-2 e manda tutte supplementari. Il Cascina in superità numerica per il rosso a Sciapi spinge sul cederatore, Materazzi mette in mezzo per olivotto, Martinelli si distende sulla desterazione e finisce in un nulla di fatto. Passa qualche istante ed è sempre Materazzi dalla sinistra a crossare, stavolta per l'incornata di Cela, Martinelli distinto a lontanare il pericolo e spinge a una conclusione ravvicinata. Il Fratis ci prova in contro Piede, Gamba manda avanti per Campisi che affrontato da Fatticcioni si sposa sulla sinistra senza trovare la porta di Brunelli al momento del tiro. I nerazzurri invece ci provano dalla destra, altro attraversone tagliato verso l'area del Fratres, il colpo di testa indietro di Frati termina out. Al quarto del secondo supplementare su una punizione da tre quarti battuta da Luci e Lucarelli, il suo malgrado a superare Martinelli con una sfortunata autorete per l'effitivo 2-3 in favore del Cascina. Finisce con tanto amaro in bocca ma a testa altissima la stagione del Fratres Perignano che nella gara decisiva con il Cascina, quella con Impaglio, il pass per la Serie D, è costretto a cedere l'onore delle armi agli avversari dopo aver cumulato a lungo, fino a pochi secondi dal termine regolamentare, una storica promozione per tutta la società Rosso-Blu. Per i ragazzi mister ticciati ci sono comunque solo ed esclusivamente applausi per quanto fatto durante questo breve ma intensissimo campionato d'eccellenza che ha dimostrato come mai Rosso-Blu sia una realtà più che consolidata ai cani alti del torneo. Adesso è tempo di ricaricare le pille e tra pochi giorni tornare al lavoro per costruire la miglior squadra possibile per affrontare il meglio la prossima stagione ed essere nuovamente tra le protagoniste dell'eccellenza toscana.